Dopo una prima stagione di grande successo, a novembre il Teatro Ragusa torna in primo piano. Sette appuntamenti con sette ospiti di eccezioni. La kermess promossa dall'Associazione Culturale ABC partirà il 15 novembre e si concluderà il 10 aprile. Tutti gli appuntamenti teatrali saranno per la prima volta ospitati all'auditorium della Scuola dello Sport di Via Magna Grecia a Ragusa. Nomi di primo piano dello Star System nazionale con opere creative da gustare tutto d'un fiato. L'esordio di teatro in primo piano sarà con Cancun che vedrà in scena Mariangela D'Abraccio. Il 22 novembre poi Federico Buffo approporà le Olimpiadi del 1936, mentre il 5 e 6 dicembre doppio appuntamento con Teresa Marnino e il suo sono nate il 23. Quindi il 3 gennaio ci sarà l'Iola di Rosario Marco Amato, il 21 febbraio la bravissima Lina Sastri nella lupa, mentre il 13 marzo Gianfranco Iannuzzo e Deborah Caproio proporanno il divertentissimo Lei è ricca, la sposo e l'ammazzo. Per finire il 10 aprile Enrico Guarnieri con A proposito di Enrico. Tutti gli eventi teatrali si terranno la domenica, il pubblico non potrà che rimanere catturato dalle loro performance. Il botteghino è attivo ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17 alle 19 alla Scuola dello Sport, con prezzi accessibili considerando che l'abbonamento dei 7 spettacoli costa solo 125 euro.